La società italiana per la protezione del mondo culturale, l'associazione di rivoluzione di Presidente, appunto d'accordo con tutti quanti i nostri soci, abbiamo proposto al professore per il nostro amico Lusini e il professore Petto questa conferenza stante. Probabilmente iniziative legate alla promozione di quello che è stato rinvenuto in località dell'Italia di Sernia che costituisce uno dei più preziosi siti archeologici a livello nazionale e internazionale. In Porto Storia si intende anche tutti i popoli dell'età del bronzo e tutti quelli popoli importantissimi come ad esempio i saliti o gli etruschi. Siamo riusciti in questi anni a comprendere l'esatta posizione cronologica di questo sito a circa 620 mila anni da oggi, anche qui c'è stato l'intervento del gruppo di lavoro dei parigini. Nel corso di questi 30 anni questo sito ha avuto una storia molto importante. All'inizio è stato quel sito che ha rotto a livello europeo l'idea che l'uomo fosse arrivato appunto sul nostro continente solo 500 mila anni da oggi. L'allora data di 6-700 mila anni, la spettacolarità del sito di Sernia sta proprio in queste superfici di abitato ricchissime di materiali che possono essere visti nel padiglione degli scavi.